Vogliamo andare a fare... Non con quest'altro qua dentro, giusto? No. Ah, inizio, facciamo, 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 un pugnale più uno! Via! Ma siete impazziti a non prendere sta roba voi comunque, però va bene. Eh, niente, un po' di amitiste. Oh, forza! Galgit, attenzione, perché questo è un tiro... Allora, allora, allora... Ma io ho ispirazione! Sì, 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 sì. Usa le tutte, usa le tutte. Vabbè, no, ma se mi faccio dei danni da poco, vaffanculo. Non ti fidi degli amici tu, eh? What? No! Allora, questo non esiste. Non potete dare. Ciò non esiste. Eh, ma non... non sapevo. Io penso fosse sarcastico. Ehm... Tanto per cominciare, non è possibile perché i pugnali più uno sono pugnali magici che non si possono spezzare. Ah! E quindi è proprio una porcata al troll. E quindi io adesso ho un pugnale spezzato più uno. Capisco. No, non ce l'ho nemmeno il pugnale spezzato più uno. E niente, abbiamo perso un pugnale più uno. Ah, non c'è niente. È solo un pugnale rotto per useless as far. Ah, ecco, pugnale rotto, pugnale rotto. No, credo si possa... Credo si possa riforgiare. C'è la forgia. Tu dici che si può riforgiare? No, non si può. No, no. Sennò ce lo potrebbe raccogliere. Perché nella forgia che abbiamo trovato ci si può mettere roba dentro. Però... Non ce lo farà raccogliere. Ma vabbè, è solo un pugnale più uno. Più avanti troveremo roba. No, no, va bene, va bene. Ma poi il set è così forte da spezzare, gli oggetti magici. Vabbè. Allora. Mi ricordo di piacere la sconvolgente verità. Li sto leggendo nel dubbio, ma... Poi li butto via, eh. Qua c'è il ponte. Oh, oh. È vero, cazzo. Usate se non mi sto seguendo, stavo facendo ordine. È vero, cazzo. Oh, shit, ragazzi. Io sono lontano, eh. Io questo non l'ho beccato. Wow, cosa, Daniel? Non hai beccato Raphael? Ah, no, non l'ho beccato qui, ok. No, no, infatti anche io non l'ho beccato qua. Oh, madonna. Io non l'ho beccato qua. Io l'ho beccato decisamente a prima. Bellissimi dialoghi qua. Aspetta, facci caso anche... Tutto ciò che ha a che fare con... Speranza. Bellissimo. Il Cormir è dove siete voi due, ragazzi, eh. I am Raphael. Well, Matt. Reporting for duty. Piacere. Sono seto. Charmed, I'm sure. In more ways than one. Would you have a chat, you and I? But not here. L'ho capito adesso. Charmed in more ways than one. L'ho capito adesso. È colpa del tadpole. Siamo charmati. Tutto a un certo punto di vista. Oh, my God. E mo? Mo sono cazzi. Meglio. E per ora, vabbè, ma non penso che abbia importanza. Non penso che abbia importanza. Va come arredato bene, Didero. Io metto mano all'arma. Seto è... Tu l'hai affrontato, Simo? Sì. Ho fatto tutto, tutto questo. Idem. È l'ultima cosa che ho fatto, tra l'altro. Io no. Va arrivare al punto di questa sceneggiata? Arrivare al punto di questa cacata? Salve. Che faccia che fa seto? Cosa ti fa credere che abbia bisogno di un salvatore? È il mio personaggio opsonico, eh. Seto è il personaggio di John. Serve un giuramento, non un diavolo. Il mio onore non è in vendita. Vai. Braa. No. Ma vende bitcoin, Raffaele. Esatto. Maledetto. Lui è la sua blockchain. Che accento che mette su Hope, mamma mia. Hope. Ha 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 ha. Such a tease. Mmm. Eh ha. Sarò io a ridere per ultimo. Ti basta guardare Futurama, il dottor Zoidberg e ride spesso. Raga, raga, ero in un posto pieno di cibo, era incredibile. C'era un signore avvenente tutto rosso con le ali. No, no, Val, mi devi credere. Carrere, Carrere, era stupido. L'hai minacciato, suppongo. Eh, ho messo mano alla spada. Certo, il mio onore non è in vendita. Ovviamente, ovviamente. Ma un riposello riposicchio. Sì, direi che ci potrebbe stare fare un riposo lungo e andare a caccia di ragni. Vai, vai. Vai, va bene. Vai. Antra, grazie. Io vado a provarci con Shadow Art. No, ferma. Carissimo, io ti posso accarezzare e ti sento parlare. Graffio! Good. A stare a uno stato, posto? Dov'è? Dov'è Lea Zell? Cambia sempre posto sta macca. Che strano il fatto che non abbiamo Gale perché... Delia è morto. È sputtanato. No. È niente. Spero. È niente. Persuasione, ce l'hai alta. Voi state facendo tutte le vostre chiacchiere da rimorchio? Adesso c'è Delia che fa le chiacchiere da rimorchio. Io devo parlare. Sto aspettando che Delia finisca le sue chiacchiere da rimorchio per fare le mie. Non mi interessa. C'è stata. Bene. Gladly. Oh sì, poi facciamo fichi fichi. Vabbè, prima di fare fichi fichi. Lea Zell! Sì, poi facciamo fichi fichi. Inteso! No, Lea Zell te la puoi tenere. Mi attira a vernilla. Quello quando l'abbiamo preso? Guarda, guarda, io si, io sbircio carne intanto. E vediamo cosa fa questo scemo. Allora. Quando sono Kithraq, prendo la mia queen Gityanki. Cavaliere Gityanki. Cosa sono quei draghi per i Gityanki? Alleati? Cavalcature? Animaletti da compagnia? Sono gifti alla mia queen dalla goddess Tiamat. Sì, non li pittiscono. 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 Esatto. Vuoi cavalcarmi? Vorrebbe fidarsi. Vuoi cavalcarmi, Lea Zell? Ehi. No. Ehi. Ti sei cascato, Karen. Ehi. No, allora. Non so chi di voi ha dato un'occhiata al mio dialogo con Lea Zell. Ma appunto, Lea Zell diceva quel diavolo non ha niente a che vedere cioè, deve soltanto cagarsi sotto appena i Gityanki anche arrivano al cavallo dei loro draghi. E io da dragone gli ho detto cosa sono i draghi per voi? Degli alleati? Dei compagni? Degli animaletti da compagnia sono dei doni di Tiamat ai Gityanki. Sono un forte legame che ricevono le giuste ricompense in cambio per i loro servigi. In te scorre sangue e dragonite, vero? Forse potrei anche a te elargire i miei doni. E io. Beh, vuoi cavalcarmi? Sono subito così. Certo. Bella, Lea Zell. Speak. Speak. Will invece mi stava dicendo di stare attenta al diavolo. Grazie. Carino. Ma condivide i dialoghi? Giusto? Credici! stiamo facendo Karen adesso. Penso di sì. Credo che condivida i dialoghi, sì. Penso di credere di sì. Ciao, prabre. Buonanotte. Comunque sia per me, Lea Zell. Mi sto simpaticissima. Ehi, Graffio! Mi piacciono le orchidee e non so nuotare. Sì, se troviamo un'archidea... Non so già cosa direbbe Gabbo. Gliela possiamo donare. Dai! Babbini, qualcuno vuole parlare con Astari o non lo so? Bravo. L'ho parlando io. Ah, ok. Sì. Azz? Boh, vedi tu. Doppiaggio a Starion, tra l'altro, ma nonna mia. Assurdo. È stato assurdo. Il problema è che se Gabbo si fa frenzonare, poi ci frenzono a tutti. Secondo me. È stato una sorpresa, hai capito? Cosa, cosa? Sono stato una sorpresa, dice Shadowheart. È stata una sorpresa, ok. Quindi siamo messi bene, però. No, a me non interessa. È Gian che vuole scoparsene tutte, quindi... Ah, è Shadowheart. Beh, Shadowheart è difficile, eh. Arrivare a fare il tiki-tiki con Shadowheart. Ci vogliono tutti e tre gli altri. Io ho zero difficoltà con tutti. Ho dovuto rifiutare tutti i Ameran. È stato terribile. È gay? Allora, la più facile è Lea Zell. Infatti ci sono le speedrun di Porta Dialetto Lea Zell. Gayle è il secondo più facile. Sì. Gayle è il secondo più facile. Vabbè, vieni. Dai, Ninne. Per me possiamo andare a dormire. Ninne. Ho sbagliato. Anch'io. Scusate, scusate. Scusate. Ancora? No, è di nuovo. State annullando quando uno di noi sceglie le scorte. Ma il giocatore sta già scegliendo. Matthew Mercer chi doppia qui? È un personaggio che trovi nel terzo otto. Meglio... Sì. Meglio non dire nello specifico. Sì, no. Io sono all'inizio del secondo. No, no, no. Anche perché poi cose... Lasciamo l'accampamento. È bellissimo, andiamocene. A posto. Lascia. No, ho sbagliato. Ho sbagliato io, ho cliccato male. Non ho male. Quanto hai fatto? Uff. Ho cliccato il riposo lungo di nuovo io. Chi sta facendo cose? Delia. Eh? Pal ha sbagliato una prova di... Delia, come cazzo sei arrivata lì? Eccolo. Oh no. Stavo salterellando prima. Allora. Andiamo a caccia di ragni o andiamo di là? Andiamo a caccia di ragni, via. Andiamo a caccia di ragni, dai. Passiamo dal potto? Uguale. Pozzo, pozzo, pozzo. Uguale. Andiamo al potto, via. Perché avete chiuso la porta? Porcelli. Va bene. Pozzettone. Mi uccidiamo tutti, Mattia e ragni. Mi uccidiamo tutti. Allora ragazzi, approfittiamo dei danni da caduta, io ve lo dico. Guarda nel pozzo. Eh, ho meno una intelligenza. Ok. Ah, stai facendo tu per quello. Calati giù per la correda... Tira una moneta nel pozzo. Calati giù. La cosa bellissima è che la monetina la ritrovi. Sì. Incredibile. Se lanci la monetina, la monetina qua sotto la ritrovi. Fuori senza senso. Allora, ehm... Sì, ancora hai dei dettagli incredibili. Aha, occhio. Eccolo. Ah, ok, li chiama. Li chiamo, li sto facendo arrivare uno alla volta. Eh sì. Sì. Ok. E iniziano Val e Narion. Vai, vai. Bomba. Cazzo di... Cambizzato. Non lo so. Fuck. Perché il bersaglio è oltre la gitta... Una volta per riposo breve, eh. Va bene. Non può essere. Ragni fase. Questi si intera da sport, no? Oh. Allora, Gabbo, se colpisci le ragnatele cade e subisci i danni da caduta. Ok, figo. Sì. Se colpisco ma con qualunque cosa, immagino. Se colpisci la ragnatela, preferibilmente... Cosa c'hai il trucchetto? Se hai il trucchetto colpo di fuoco... Trucchetto di fuoco, no? Ce l'hai. Esatto. E colpisci la ragnatela... Sì, ma è... Il ragno cade. Ragno fase, ragno cade. Un attimo che non vedo una roba. Ignis! Oh, easy. Ciao. È stato bello. Arriva il secondo letter, cazzo. Ah, ok. È la mia volta! Oh, madonna. Di sé con fortissimo accento piemontese. Esatto. Punizione incandescente dei miei coglioni! Anzi, prima faccio giuramento di nemicizia. No, è un incantesimo, vero? Carica di incanalare giuramento. Ah, allora va bene. Poi, punizione divina. Non ti faccio più, amico! Puni... Non ti stacca l'amicizia! Lui ha un punto vita. Va bene. Si è inghischiato. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Allora... Freccialo, Delia! Freccialo! Sì. Faccio... Tappo di attivo. Se ne sei un po' distante. Aspetto di vedere cosa fa Delia prima. Invece no. Mamma mia. È mancato. Va bene, va bene. Vado a riempirmi l'acqua intanto, voi evitate di farmi morire. Uccidetelo. Dai, capo! No, ok, non abbiamo niente. Sto pensando, eh. Me lo terrei per dopo. Me lo terrei per dopo. Non cadere. Buona. Oh no! Aha! Uh, stesso discorso di prima. Non lo so, perché è un po' sopra al pavimento. No, è sulla ragnatela, sì, dovrebbe cadere. Ma secondo me... Cade, cade. Sì, sì. Esistì, dovrebbe cadere. Cade, cade. Care non c'è il dardo di fuoco su Ettercap. Colpisce con 11 o più ottiene 7. No! Non ne sembra un po' sopra. Non cade. Guarda come è imbilico il bastardo. Non cade. È imbilico. Tra santi e falsi dei. Che falsi dei, lo stavo per dire io! Sorretto da un'insensata voglia di equilibrio Che mi lascia qui Sul filo di un rasoio Per costa concursiva ti frastorno per due turni! E invece? No. Invece no. Vabbè, 8 però non è male, eh. Ok. 8 va bene per ora. Ahia! Tu non hai armatura adesso? No, non t'ha fatto... Non t'ha fatto niente. No. Però io ho bisogno di una armatura pesante. Allora. Marchio. Freccialo! Ti vuoi da fare i pipì nel frattempo? Riesco, sì che non ci metto due secondi. Ah, sì, sì, sì. Ti devo occupare. Dio, quanti uno sto tirando stasera? Vabbè. Che cazzo devo farci? Ma che cazzo ci devo fare? Ma mettiti le mani in culo. Ottieni un 9. le palle. E niente. Onde di caos pure. Let's go. L'ho mancato. Bene. Ah! Vieni, Hether Cup. Ti spacco la faccia. Ahia! Torno di Galgit. Sono in visghiedo. Sei in visghiedo. Eh... Va bene. E niente. Non posso saltare. Gli lancerò una lancia. Chi sta? Beh, 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 beh. Che devo dire? Quattro è meglio che zero. Ma infatti io appena trovo io userò la lancia, raga. Perché la lancia... Il bello è che poi trovi ben due lance ritornanti nel gioco, quindi... Questo c'è il... Questo c'è. Madonna mia. Madonna, un altro uno. Non ci voglio credere. Oh, va così. Eh, capica. Tutti i livelli più bassi... Va così. Aspettiamo il ritorno di Delia. Aspettiamo, my love. Porto mi chiede... Tu non flerti con nessuno? Se riesco a scoparmi Karlak. Aha! Sarà una gara a chi se la scopa prima, allora. Vabbè, tanto... In teoria condivide, no? Cioè... Lei se la fa con l'accampamento. In questa cosa, no? Quindi... Parapapam, paraparapapam, pam, 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 pam. Delia? Eh, ho fatto, ho fatto. Vedo che ti illumini, cosa... Ma che... Che culo che ti sta mancando, però, eh? Con il vantaggio che sta in alto. Buono. Tra l'altro, comunque, avete notato che non si muove e l'abbiamo incastrato. Quindi, comunque, è servita la roba della ragnatela. Sì. Che di solito questi si muovono a tutti i turni. Sì. Porco! Sì. È... Dead. È dead! Ok. È dead! Che vuol dire che io posso riapplicare il marchio del cacciatore. Avete il dado carmico attivo? No, abbiamo deciso di non tenerlo. Abbiamo deciso di non... Di non utilizzarlo. E... Sì, la botta norma... Tenacia! Merda! Anch'io ho missato male. Con... 5 per 5. Quelli da 3 anni. Allora... 100... E poi... Ci mettiamo qua. Basta con gli uno, cortesemente... E via. Non ci voglio credere. 90... 90% miss. Ragazzi. Non ce la posso fare? Eh, oh. Maio. Va così stasera, eh? Madonna mio! Ma allora! Non so, fuori... Stiamo... E' pittazugo, raga! 12, finalmente! E' un Ether Cup? Quant'è che c'ha? Sì, infatti c'è. Ma un cazzo, raga! C'ha 11! Oh! Sì, sì, eh, non... Non c'ha senso, però... Non c'hanno pure niente addosso, sti pezzetti. No, infatti. Allora, vediamo cosa c'è. Vecchio zaino. Con dentro un flauto... Che lascerò... Guarda, la bella merendina. Lascerò... Lo shakaren. Tu lo vieni a prendere? Cosa avete sbagliato? Cosa avete fatto? Tostino. Roblin bambino morto. Uno squeletro. Pergamena di caduta morbida. Bene. Uh, possiamo... Che facciamo a prenderla, questa? Cosa? Quale? C'è una pergamena di caduta morbida. Perchè arrivo? Qua. Ma è in alto. Non so come spostarlo. Ma dov'è? Lo vedi? Guarda verso il muro. Pergamena di caduta morbida. Impossibile raggiungere. Non so come spostarla. Un botto avanti. Eh sì. Sto guardando da lontano. Sto rispettosamente guardando da lontano. Eh, comunque sì. Più avanti c'è il ragnone gigantone con tutti i suoi isole e tutti i suoi chigliocci. Eh sì. E qui c'è l'onice. Certo. Diario insieme al portiere pesante. Stivali del passo del ragno. Non può essere invischiato alla velocità di evalimento. Non è impulsato alla superficie del ragnatere. Mew. Direi che lo metti tu. Mettilo, mettilo. Sono l'unico che ha bisogno di muoversi. E invece pergamene. Allora, lo zaino dell'apprendista che l'ha svuotato? Io. Lo zaino dell'apprendista qua che l'ha svuotato ragazzi? Io. Vuoi il diario dell'apprendista? Leggetelo. No, basta che lo leggi. Penso che conti chiunque. Che sia noto che ho lasciato la mia terra d'origine a causa del legame con il mio maestro e non per mia scelta. I primi brani del diario sono scritti in una calografia. Ci hanno pensato loro. I giustizieri oscuri sono arrivati al vecchio bastardo prima che ci arrivassero gli Zulkier. Ora, già c'è terra di sanguente e quando morirà sarò libero di questo giuramento. Potrò tornare. Ok, fatto. Vedi? Aprire l'antico toro. Allora, F5. Ci appropriamo perché non c'è molto altro qua giù da fare se non quella roba lì. Vai. Allora. Che vuol dire che? Se posso permettermi di dare un suggerimento, ci mettiamo dalla giusta distanza. Aspettiamo che il Ragnone Fasone sia su una ragnatela. E poi Gabbo lo snipe con un dardo di fuoco. Io ho il consiglio anche di spaccare le uova prima. Ecco. Iden, come dice Bele. Però il fatto è che dobbiamo capire dove sono. Dove cazzo è il Ragnone Migigandone? Io li già li vedo alcuni. Ma si vedono. Sono qua. Sono dritte davanti a noi. Ci sono... Allora, diciamo che ce ne sono diverse, no? Quella che sta attaccando Dele è un conto. Io vedo un Ragnone Fasone. E poi ce ne sono altre sotto, praticamente. Il Ragnone è lì, in fondo. Non lo vedo. Forse perché ho percezione bassa, ma eccolo là. Occhio adesso. Guardalo là. Occhio adesso. Occhio adesso. E poi? Preparati con... Eh sì, è big. Preparati con un dardo di fuoco. Appena sulla ragnatela lo puoi cadere. Eh... Petta, 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 petta. No, Delia! Ecco appunto. No, non sono stata io. Eh sì, sei stata tu, perché guarda chi c'è a la tua destra. Ok. Ok. È stata decisamente tu. Eh, va bene, va bene. Eh, aspettiamo. Eccolo l'aragnopase. Ok. Si è messo... Ok. Si è messo sulla ragnatela. Devo scurato. Va bene, va bene. ma tu cosa volevi fare scusami eh volevo andare nel caso in stealth sempre nel caso sempre in stealth guarda Delia se vuoi se vuoi Delia prendi dal mio inventario il fuoco dell'alchimista e buttalo sulle uova buona idea buonissima idea ma 45? si 45 però hai preso anche Delia no 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 no? provo a spingere il ragno provo a spingere sto ragno giù di sotto vediamo se faccio il canestro Bobby let's go aspetta che faccio un'altra cosa io Delia si avremmo potuto anche fare un riposino breve prima di entrare in fight delia posso suggerirti di allontanarti dalle fiamme prima di finire il turno eh adesso non posso ah ops no non disimpegno l'azione scaltra scatto l'azione scaltra scatto ti regala altri 9 metri di movimento non avevo più non avevo più spazio no allora l'azione scaltra l'azione scaltra scatto ti dà altri 9 metri di movimento ah ok anche se non ho più movimento esatto te ne dà a lei altre 9 no la voglio utilizzarla già no se hai l'azione se hai l'azione bonus l'azione bonus di scaltro no l'ho già utilizzata una era l'azione che ho lanciato l'ampolla e l'altra mi sono spostata no ho usato tutto ok si rimane lì bravissimo let's go buona easy easy ci sta andando di culo con lui dai quello che conta aspetto voi aspetto voi ti inquisisco merda vediamo se posso ci non per spararlo cariche di imposizione mi fanno essere sufficiente che cosa mi dice percorso interrotto aspetta che non ti vedo ok percorso interrotto eeeh dovresti riuscirci prova semplicemente a spostarti un pochino di lato c'è un punto e non posso perché ho finito in movimento ok e allora devi giocare di qualsiasi da ragnatela no 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 mi dice che sono troppo in basso per ma prima c'era un let's go boom prono 47 danni eh devo attaccare io prima e narion torna su c'è chi è che ha fatto 100 danni al drago ah si al drago al rango il drago certo è il drago quello quello niente ti conviene tornare su dai dai rampicanti Dalia tornare insieme agli altri chi che sta spostando barili io io però guarda che è una è una ricetta per il disastro io te lo dico no non è vero non è vero ok oh shit sono regni fa tutto ok non ti preoccupare il barilotto è lì apposta si per farmi esplodere esatto bene se necessario si se risparmiamo azioni aia vedi che tu non ti fidi degli amici vi dovete fidare vi dovete fidare del re arrivo fate esplodere quello che dovete fare esplodere poi mi avvicino eh fammi allontanare prima un attimo signor tranquillo 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 passo velato eccoci va bene vai fai vai con dio polvere nera arrivo stai su polvere nera bene no c'ha 13 punti vita sto pensiero ci penso io putum ne ne faccio 4 va bene e io finisco è stata una botta forse no lanciare è una è un'azione non è un'azione bonus è un'azione pura se c'è un'azione bonus tu ancora no Delia non hai azione bonus l'azione bonus ce la diamo tutti non riesco a berla vabbè che ho fatto finiturno che è l'azione bonus o no è mo' ho fatto finiturno puoi annullare finiturno puoi fare annulla termine turno puoi fare annulla termine turno dovi annulla termine turno io raga rimango qua con i ragnetti aspe aspe forse posso fare una cosa faccio duello obbligato costringo il ragno fase ad attaccare me non la posso bere yes fatemi idea cosa Delia non la posso bere lei ha appena bevuta in realtà si si puoi berla mettitela no ragazzi 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 l'ho vista l'ho vista ha appena bevuto se andate su nell'elenco delle azioni forse l'ho anche fatta sono a terra capito sono a terra quindi a terra non posso bere io qualcuno mi deve alzare per bere ma non sei a terra tu da terra ma sono a terra Delia come? sei ancora in piedi sono a terra io Delia sono rincoglionita madonna aspetta ora posso bere prima non mi faceva bere secondo me hai bevuto anche prima perché sei a sete ero due e due sono rimaste ok allora il ragno fase matriarca ha tre punti vita ok il ragno fase giù grande let's go andiamo a aiutare Val save me alla prossima volta userò il mio cazzo di compagno del ranger dio ok e ora for the loot ops qualcuno ha già luttato no nel senso il loot è un vestiario raga è un vestiario quindi è mio si 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 no nel senso for the loot più avanti qua per terra c'è roba delle prede dei ragni io guarda che bello che sono con l'armatura nuova la metista oscura la metista oscura la metista oscura che possa essere quello che bisogna mettere dentro la bocca di una cosa affamata eh mi sa proprio di si carcassa animale ah ma qua c'è un c'è una tappa c'è una tappa segreta ma se che forse io non l'avevo trovata nel mio playthrough io non ho di sicuro io si ok non abbiamo eh cazzo sto livellino non lo faremo mai no lo facciamo lo facciamo secondo me ci vuole un top no no dico non l'avremmo mai fatto prima di venire no 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 col cazzo però il fatto è che il bello di sto fight con il ragno fase è che basta avere un minimo di pazienza e lo tiri giù abbastanza in fretta si anche se sei sotto livellato si sei cosciente dei danni da caduta va bene ecco lì mamma che forti che siamo meno male che lo stregone l'ha buttato giù 267 volte meno male che qualcuno gliel'ha detto lo stregone esatto ma piantatela ci sarei arrivato dai si si e li sottovalutate dai no si tec la mia run non l'ho ancora finita sono verso la fine ma non l'ho ancora finita posso dire che son bellissimo con l'armatura nuova fatti vedere che non l'ho visto cioè sali qua che sali qua che sei un tipo molto carino ma quella del ragno molto carina sei che sei un tipo madonna madonna si sei un tipo morale non sono il tipo di tua madre dragone ma io ti faccio un complimento tu subito te la provinti per sfottermi allora ma fa culo sfotterti sfotterti scusa intanto parliamo del fatto che tua mamma ha degli ottimi gusti a questo punto no non trovo da eccepire scusa cosa c'è qui sossegis sossegis allora signor Karen sono io salve buonasera sei tu abbiamo la metista per il tuo libro quindi prima di risalire io direttamente metterò qua giù ah ok vogliamo fare un altro riposo breve di sicurezza vogliamo fare un altro riposo breve di sicurezza che ne ho già fatto uno salvataggio vai Karen vai chi è che ce l'aveva la metista scura lo raccolta io uguale dai te la metto nell'inventare è uguale oh si là dentro grazie oh il libro è chiuso ancora per poco tu questo l'hai fatto fuori dal personaggio tu questo l'hai fatto no non l'hai fatto no interessante questa cosa non l'ho combattuto il gigara wow si ok va bene eh Gabbo tutto a te ti sta nell'alcova sulla copertina tutto a te eh amma papà buona ok dico niente non dico e uccidere un demone un mortone un revenant l'apriamo 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 guarda aprilia aprilia scemo chi legge cosa l'acqua 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 quindi un qualunque martedì per Karen che figata ma certo bro ma certo vabbè cd5 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 porca pagina 1 questa immagina le altre va bene mi raccomando abbiamo bisogno di tiri migliori sorgato oh raga se perdiamo Karen io sono pronto a smitarlo in faccia va bene va bene aspetta 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 cosa come vuoi come vuoi io non non ho fatto questa missione io azz lo volete voi ragazzi non dico niente vai un bel tiro tanto ci abbiamo ispirazione ci abbiamo tipo tre punti ispirazione io provo ispirazione 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 11 ma benissimo ma benissimo ma benissimo ma non male che c'è solo più tre dai un povero libro un povero libro Questa vuole qualcuno di condividere sull'insanità Lo accarezza e gli fa coccoline Eccoci Sì ma dall'altro lato Ancora Con calma Con calma c'è tempo Prova a riaprirlo Emo perché l'avete calmato Prova a riaprirlo Facciamo un salving de salveroni Facciamo un salving de salveroni Prova a riaprirlo Non so come funziona Il punto era avere coraggio E spogliare tutte le pagine Fino ad avere tiro salvezza impossibile Praticamente Senza una chiave potrebbero restarti Preclusi per sempre Ok Eh c'è tempo C'è tempo ci sono altre cose da fare Vabbè torniamo su allora Va bene Andiamo Vai Io posso salire dal secchio Voi non... Non so bene come siate saliti su dal secchio Tutti possiamo salire su dal secchio Sì sì si fa si fa Allora aspetta che non è finita Ah è vero Eh sì qua bisogna parlare Eh Delya Chi va? Vai Delya Vai Vai Delya Uno dei miei dialoghi preferiti di questo gioco San di pollo C'è come carne C'è come carne C'è come carne Io ragazzi non mi vado a mettere al piano di sopra eh comunque Mmmh I liti simili sconvengono al nostro disco Per sicurezza mi metto qua Eccoci qua Io non sono un dessert Questa parte del soffitto almeno non dovrebbe cascare O freddo La marca è la mia misura Ciò è la brand dell'Absolute Mmmh C'hai più quattro Sì c'ho più quattro Sì sai che io farei questo Vai sì dovresti farcela senza problemi Ehhhh Pendono le tue labbra Không C'è Se le tue labbra Non 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 Si Non 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 Sì, sì, è là dietro. Noto che tu non sei un marchioso. Chiato. And greed. The goblins understand my appetites. They save my hunger for gold. And the rest save my hunger for meat. Boss goblin give gold. We check brand. Good deal. Good deal. No talk. Quello che vuoi tu, Danny, eh? Noi votiamo, noi votiamo. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extorsion. Make me an offer. Tempt me. Se l'offerta va male, io ti roggio tutto. Bravo. Ti poverò con le carni di caduti, ne avrei più che una buonanza, verso Sione o più due più due, inganno anche più due più due. Pagarlo non è che, a me non va molto. No, ti pagherò con le carni di caduti. Dai, ci sta. Classe difficoltà 87. È un tirantissimo. È infatti, io lo sapevo però non volevo rovinarvelo. Ci sta, ci sta. Io c'ero riuscito nel mio playthrough. Anche io. Vediamo, aspetta. Quante ispirazioni abbiamo? Uno ce lo possiamo giocare. Uno lo otterrei. Ma uno ce lo possiamo giocare. Tiro giù tutto? No. So close. Tiro giù tutto? Ah. As you wish. Allora, io ti dico, Delia, c'è una possibilità che noi lo convinciamo, ma poi ti viene a leccare i piedi. Ok. What? Sì. No, scherzi a parte. Non posso chiedere che hai i piedi. Nel senso che arriva l'ogre, che chiede il suo pagamento, e oltre al pagamento ti chiede di leccarti i piedi. Interessante. Se volete, io adesso tiro giù una trave e faccio un botto di danni inizial fight. Vai. Direi che possiamo abbattere la trave. Tiro giù la trave e faccio un botto di danni. Vabbè, allora ho bisogno che... Ti li ho sempre salvati, visti qua. Allora ho bisogno che Delia, comunque continui, se no non posso uscire dal dialogo. Ok. Signori, let's go! Non è successo niente. Non è successo niente, ma va bene. Non è successo niente. L'idea del cazzo è stata. Ma poi siamo fuggiti. Allora, con calma, con calma. Con calma, con calma. Io ho una boccia di grasso, Karen, hai già attaccato? Certo. Io ho dell'attacco furtivo a distanza. Così, così, perché mi andavo, ok? Aspetta, aspetta, aspettate, ragazzi. Perché sono fortissimi questi. Fanno solo un sacco di... No, si fanno, si fanno, secondo me. Però il problema è che io volevo evocare il compagno. Io farei un tiro di boccia di grasso. Però qualcuno di voi altri poi deve... Dargli fuoco? Beh, io lancio una pozzina dell'alchimista. O dell'alchimista. Vai, lo faccio allora, aspetta, eh. Lancia. Bomba. Prendo tutti e tre. Quando volete. Aspetta che non prendo... That's good. Io vado con l'attacco... Tantissimo. Vai. Miss. Allora, che ci serviva. Va bene, va bene, vai. Un botto di danni. Seto, paladino, 2023. Eh, scusate, pensavo di lì sì. Buono però il Miss, va bene, allora. Il primo da far fuori... Potendo scegliere il primo da far fuori è Lamp. È Lamp, l'Illuminato. Perché lui casta gli intantesimi, merda. Oh, è poi sfocato, che palle. Ok. Oh, oh. Pum. Io sono decisamente di peggio. Allora, la sua resistenza al veleno qual è? Nessuna. Trenta per cento. Ma trenta per cento. Bro. Sdang. Sbilanciato. Ma stiamo menando Lamp o... Io non posso muoermi da qua. Quindi voi, se riuscite a fare Lamp, certo. Io non mi posso muoermi da qua. Io ho lanciato più Lamp. Bravo, Gabbo. Sfocatura, which is awesome. Oh, oh. Vabbè, ho creato tutto un campo... Tutta una roba attorno a me con magia selvaggia. Ops. Ah, ecco cos'era. Non c'erano di capire. Dove. Frecciacida tira. Porca puttana. Ah, questo livello è fortissimo, Frecciacida. Mancato, stronzo. Però ti ha interrotto la concentrazione. Ma mi ha colpito lo stesso per qualcosa che fa lui, eh. Io gli ho tolto l'azione al merda, ma lo frastorno. Porca troia. Mancato. Vediamo se posso metterne qualche veleno. Fossina semplice. A posto. Funk qua non se la passa bene. Nemmeno Funk. Penk è quasi morto. Smetti di sparare Frecciacida su di me. Oh no. Cosa vuoi da me? Vai via. No, da te non vuole niente. Ha già fatto 20 danni sopra. Ahia. Che botta. Sono giù. Eh, raga. Scammone. Sono giù. Delia. 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 Piano. Siamo due morti. Se continuate ad attaccare, secondo me, non gliela fate. Io, guarda, la cosa che puoi fare, Delia, è utilizzare, o usi una pozione su Val, oppure fai azioni di disimpegno da lamp e poi fai un attacco furtivo su Fank. Almeno ci leviamo delle palle un ogre. Che però al momento è frastornato, quindi comunque non è che agisca in questo turno. No, no. Ok, faccio azione. Allora, aspetta, 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 Delia. Allora, se tu mi lanci una pozione siamo a posto. Sì, devi proprio fare azione di lancio. Devi cliccare col tasto destro su una pozione di cura dritta leggera. Devi cliccare una pozione, dall'inventario fai mouse destro, lancia. Ora, il tuo... Il percorso è interrotto, quindi dovrei fare azione scaltra, disimpegno, ti avvicini a Val. Eh, stavo facendo quello. Anche io perché devo avvicinarmi un po'. Mo te muovi. E rilanci la pozza. No. No, non il veleno. Se non te la fa lanciare è perché devi metterla nel tuo inventario, semplicemente. Capito? Sì, da nove tra l'altro, un bel tiro. Thank you. Adesso io cosa posso fare, ora che sono in piedi? Oh, mi sai che hai solo l'azione bonus. No, no, posso, posso. Puoi berti un'altra pozza? Posso bermi un'altra pozza, appunto, sti cazzo. Va bene, rimango qua perché sennò gli do l'attacco l'opportunità. Io non posso fare nient'altro. Come arriviamo da Karen che sta lassù? Eh, non ci arriviamo. Finiamo il fight in tre. Io stendo sto stronzo. Ok, uno e giù. Cosa hai detto? Mi deve interessare poi dopo perché adesso non... Sì, si fa, si fa. Non fai dove sia fattibile salvare. Allora, uno e giù. No, no. Va bene, cioc. Guarda. Tiò va bene. Me lo gioco, me lo gioco. Vai, vai. Me lo gioco, dai. Scassalo. Sette. Non proprio quello che volevo. Ok. Va benissimo, però. Ok. Va benissimo. Allora, aspetta. Aspetta prima... Esatto. Vediamo se lo riesco a steccare io male. Vai. No, ma io comunque mi avvicino perché così do Adelia l'attacco cultivo. Mi avvicino così Adelia e do l'attacco cultivo su Lamp. Vai, puoi agire. Buono. Buono così. Buonissimo. Buonissimo, ragazzi. Va bene, dai. È andata. Tenaccia della merda. Vai. Attacco cultivo. Fallimento critico. Non ci voglio credere. Vai con l'attacco cultivo con la seconda arma. Sono due? Vabbè. Sono due. Va bene, va bene, va bene. È tutto ok. È tutto ok. Vaffanculo. Arrivo, Adelia. Sorry. Come ci arrivo da terra? Carrene è morto, morto, morto. Eh vabbè, usiamo la pergamena. Vado a dargli una pergamena di risurrezione. Come tra poco inizio a puzzare. Prima lo lutto. Lamp l'illuminato. L'avete già luttato? Sì. Mu ti dico così. No, l'hai fatto due. Lui non l'ho mai luttato perché ce l'avevo amici io. Anch'io. Allora, Lamp di UGDM. Adesso mi lancio su e non muoio. Aveva una pergamena di sfocatura, un anello con rubino, dei guanti di cuoio. E aveva... E ha una fascia dell'intelletto distorta. Regola 17. La tua intelligenza sei inferiore. Chi vuole arrivare a 17 di intelligenza? Ecco perché era così intelligente. Chi vuole arrivare a 17 di int? Io forse faccio schifo in int. Mi sa che quelli a cui serve di più sono Val ed Enarion. Perché Enarion le servono per le varie cose di indagare e robe del genere. Te, schifo comunque, non fa avere intelligenza alta. Anche Karen per i tiri di Arcano, volendo. A me non serve un cazzo. No, no. Ti dico di darlo a Delia. Vai, Delia. Te lo metto nell'inventario. Invece per Karen c'abbiamo un botto di pergamene. Non hai fatto un cazzo, ma comunque ti guadagni le pergamene. Non ho fatto un cazzo. Riposigno? Ho sparato a tutti quanti. Eh, ci va un riposigno lungo. Ho appena preso da mangiare? Ci va un riposigno lungo. Sì, sì, ho appena preso da mangiare. Mi ha sparato due frecce di Melf in bocca. Eh, sì. Eh, sì. Cos'era con bestione? Era un troll. Va bene. Era un ogre. Vado, riposo lungo. Vai. Un ogre. Se glielo rubi, anziché ucciderlo, hai dei dialoghi apposti in cui torna tonto. Carino. Aspico, sì, ci sta. Le azelle, ho ucciso un ogre tutto da solo. Me la dai, per favore? Sei un priacro? Mi alzo un secondo, eh. Faccio il mio stretching due minuti mentre ho fatto i dialoghi. Eh, ma le azelle non me la dà. No, io devo parlare lo shadow art. Eh, tutti quanti... Diotti hanno a merda? Io no, io sto bene. Io sto migliore. Econom sağ Animals. Quelli io ho tò... Ehm, la mia... namee sped Lei. Ehm... Ehm...